Allora che andiamo davanti che l'ostia qui che si sta a frenare in Biggol mi sono arrivarà giù senza freni perché guarda se si sta a frenare si sta a frenare, si sta a frenare, si sta a frenare, si sta a frenare si sta a frenare, si sta a frenare, si sta a frenare si sta a frenare anche a me perché sa che ti fa, quindi non da gadoce tu sei 10 ore in via e tu hai carruci, va giù magari ti ha risa giù a com, a com, va giù in un attimo tic-tac, leggiamo giù tic-tac, a se c'è qualcuno sei mo' la scopietta pensate che non puoi fare l'accaso fatta a caso sono stano anche di pulire da... scopietta ciao nan, ciao dai, muoves andiamo e dai, e dai questo acceleratore e mo' la sto pedale ciao se ti devi giù al piste in disi, nan ti fai passare davanti no, alba, no, è un madonna ah, ma te, destra si, la stracchia, alternativa, mi chissà dis olla madoncilla ti rischi du pietra? osti, la madonna è, che al piste e a due? tu per la parte a destra ora mi vedi che sei davanti ma se sei davanti? avanti, avanti, quelle prime 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 normalmente E' questo? E' questo? Ti hai visto cosa fa? Basta conoscere la strada Se c'è davanti un biglino che frena e ti sopassa con la maniera qui Ti gira, ti trattacca Ma ti hai visto che dubbietta cosa fa? Te li fai proprio bene Ma che è là? Uuuu, quello là, madonna se li dobbiamo girare con il volante qui No, ma fate scherzi, dite che sono già giù o sono ancora su? Sì Se ti hai visto la domanda Ah no, in là In là? Due? Ah no, è una macchina che è andata No, no, due oltre, e era grossa anche E lì? Eh, ma sale sì Guarda adesso, tocca a me la terza Sì, c'è la strada qui Sì, c'è la strada qui Sì, c'è la strada qui Sì Ma mi piace la ciupetta in cicini Sì E va me le andai giù delle temperatele adesso Eh, ma... Sì, c'è la... Puoi dire la madonna c'è, no? Ma se con me... Insì Se anche a me Sì Sì Perché te la sono anche? Non l'ho visto indietro di noi, eh? L'aggiornamento che è a mia Ah no, ma mi l'ho vista un... Un... Un G-POM davanti Ma... Ah, vedè, vedè anche... Un G-P-P-S-E No E' un G-P-P-S-E E' un G-P-S-E E' un G-P-S-E E' un G-P-S-E E' un G-P-S-E Dopo quando hai tornato, ti avvi la strada giù Aspetta E' un G-P-S-E E' un G-P-S-E Non è mai stato un G-P-S-E E' un G-P-S-E No, ti vedete che... I... I G-P-S-E Che la c-U-V-A-Q Con la Panda Se la c-A-P-S-E Si, te la fa no Guarda dove va il museo Guarda Ostia Ostia No, ma il nonno! Eh no! Non lo facciamo qua, c'è finito! Dovevo vedere che c'è il caldino? No, non lo so! Io sono passato con la scrucciatoia là! Passate sì! Che c'è io? Vedetevi non capire con chi c'è il mio? Chi c'è un giri mistero? Quel da Bobby! Dai dai, c'è la razzicina in vola che riesce a fare succhio! Adesso se ne è rotta! Non lo so! C'è il mio figlio! Tutta che roba! Ma va lenta perché... Chi che ha messo in altre macchine eh? Stanno attenti insomma! Non che sei vincitato! Quella la metto in la freccia per fare la curva perché... Quanta sei maledita! Quanta genna la che è! Oddio! Oh signora! Si, con la Golf, questi vestiti! E questi con vittorini le più se fanno! Eh che con l'iniezione non lo fa sta cosa! E' un accessorio da carburatori! No! Ma che comunque non credo che sia discorso di iniezione ma credo che sia discorso di catalizzatore! Ma cosa dicono? Sì, sei finito! Oh mamma! Oh stia, giro! anche qua richiama tanto il 1000 come suono no ma la gente doveva andare? ci vuole gente che l'habita su e le va in giro a fare festa comunque anche l'altro motore a 40 non lo faceva risultati, a 50 sì come questo? sì sì, è proprio un certo numero di cicli che glielo fa fare arriva su qualcuno? ok ora no 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 si non no 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 mi Grazie a tutti